Musica Ciao, goodyear, bentornato da Carlo. Vediamo oggi cosa combina il computer, o meglio, cosa ci permette di vedere cosa combina il computer, ossia la scheda grafica. La scheda grafica può anche chiamarsi amichevolmente scheda video, quindi potrei trovare questi due termini. Ma che cos'è una scheda grafica? Ogni operazione che esegui il processore porta a dei risultati che dovranno poi essere rilevabili dai due sensi. Tale rilevamento avviene tramite il monitor che tratteremo nelle prossime lezioni. Quindi basterà collegare il PC al monitor tramite il cavo adeguato e tutto finisce qui. Potrai visualizzare gli esiti delle operazioni eseguite dal computer, non tutte perché alcune saranno nascoste, e tutto finisce qui, in termini molto semplicistici. Tutto avviene però grazie all'elaborazione della scheda grafica. In pratica, essa acquisisce i risultati forniti dal processore e li adatta per poter comandare il monitor e renderli così visibili all'operatore. Dove si può trovare la scheda grafica? Beh, dipende dal tipo di scheda. Senza partire dall'età della pietra, in cui era possibile soltanto visualizzare alcuni caratteri alfanumerici sullo schermo, diciamo che attualmente le schede che con più frequenza puoi trovare in un PC di casa sono di tipo integrate, schede di tipo AGP e schede grafiche tipo PCI Express. Come detto in un'azione precedente, la descrizione dei vari spinotti, connettori, interfacce presenti all'interno del computer la tratteremo in futuro. Ora però soffermiamoci a capire qualcosa in dettaglio sulla scheda grafica. Se la scheda è integrata significa che è direttamente scalata sulla scheda madre, quindi non dovrai preoccuparti in fase di acquisto perché la trovi sul PC. Guardando sul reto della scheda madre, infatti, troverai tra i vari possibili collegamenti la classica uscita VGA che era la più diffusa fino a qualche tempo fa. Questo connettore può essere assente sulla scheda madre, ma non necessariamente. Comunque, se non c'è, significa che la scheda grafica non è, come si dice in gergo, on board, ossia installata sulla scheda madre, ma sarà alloggiata su uno spinotto dedicato, chiamato slot. In questo caso potrai aver installato sul tuo computer una scheda grafica di tipo AGP o DCI Express. Un occhio allenato potrà, con una certa facilità, individuare il tipo di scheda grafica installata sulla scheda madre. Anche tu, con il tempo, lo diventerai. In maniera molto approssimativa e gossolana, se tieni il case del computer in posizione verticale, guardandolo dal retro, se il connettore VGA o comunque il connettore video si trova nei pressi del centro della scheda madre, allora avrai installato verosimilmente una scheda video tipo PCI Express. Se invece troverai questo connettore un po' più in basso, verso la base proprio del case, allora il tuo PC avrà una scheda video di tipo AGP. Ok Carlo, ma cosa mi serve sapere che tipo di scheda grafica è installata sul mio PC? Semplicemente una parola, prestazioni. Questo è l'effetto, infatti, che produrrà ai tuoi occhi l'una o l'altra scheda grafica. Maggiore o minore qualità, maggiore o minore velocità, quindi prestazioni. Avrai compreso quindi che una scheda integrata sarà la soluzione più semplice, economica e meno performante. Infatti le sue prestazioni e caratteristiche sono abbastanza limitate in confronto alle schede AGP, anche se vecchiotte, o alle più nuove PCI Express. Ma cosa vuol dire in termini molto semplici? Ogni scheda grafica ha un proprio processore video, dotato di una certa velocità, la frequenza di lavoro, il quale elabora i dati video ed avrà anche una memoria propria dedicata per il suo lavoro. La tecnologia con cui è costruito il processore video, la velocità e la quantità di memoria RAM presente sulla scheda grafica rappresentano i parametri che determinano la capacità, la caratteristica, la potenza della scheda grafica. E quindi saranno questi i parametri che dovrai monitorare in fase di acquisto. Ogni scheda grafica integrata, ovviamente, non potrà avere una propria memoria RAM, termine tecnico dedicata, e quindi utilizzerà parte della RAM presente sulla scheda madre. Se acquisterai un computer già assemblato e con scheda grafica integrata, noterai nella descrizione delle varie caratteristiche, accanto al valore numerico della RAM presente nel computer, il termine di condivisione. Mi spiego? Facciamo un esempio. Acquisti un computer che ha una memoria RAM di 2 GB. All'interno di questo computer c'è una scheda grafica, modello dal Detail, con memoria RAM fino a 512 MB condivisi. Ciò significa che il processore della scheda grafica utilizzerà per il suo lavoro la RAM installata sulla scheda madre, fino ad un massimo di 512 MB. Comprenderai quindi che, oltre alle prestazioni poco elevate della scheda grafica, otterrai anche una decurtazione sulla reale quantità di memoria utilizzabile dalla CPU del tuo computer. Quindi non potrà più utilizzare 2 GB, ma fino a circa 1,5 GB. Le vecchie schede GP e le recenti PCI Express hanno memoria propria e prestazioni molto più elevate, ma ovviamente anche i costi possono essere rilevanti soprattutto se vuoi avvicinarti alla fascia professionale. Come accennato in una precedente lezione, la mia filosofia è effettuare acquisti mirati, ossia strettamente correlati all'utilizzo. In pratica, l'importante è che sia consapevole di ciò che vuoi fare con il tuo computer. Per la maggior parte degli utenti, effettuare già un acquisto di una scheda grafica intorno ai 50 euro come fascia di prezzo, produce ottime prestazioni video. Per poter funzionare una scheda grafica, non è sufficiente che sia installata, ma il computer, il processore nella fattispecie, dovrà essere in grado di pilotarla. Come è possibile farlo? Tramite i driver. Cosa sono i driver? In realtà sono dei programmi, definiti con il termine inglese software, che saranno necessari a far funzionare la scheda grafica perfettamente. Ogni scheda grafica, come tutte le periferiche, tra l'altro, interne ed esterne al PC, per poter essere pilotata dalla CPU e quindi dal sistema operativo, necessitano di un programma specifico. Questo programma è indicato proprio con il termine di driver. I driver devono essere dedicati per scheda e anche per lo specifico sistema operativo installato sul computer. Infatti, per una determinata scheda grafica, possono essere necessari driver diversi se sullo stesso computer sono installati più sistemi operativi. Normalmente, acquistando un computer assemblato, o comunque acquistando anche una scheda grafica a sé, viene fornito un CD di supporto, DVD di supporto, in cui sono presenti i driver della scheda per i vari sistemi operativi presenti sul mercato. In alternativa, potrai comunque scaricare i driver o i loro futuri aggiornamenti direttamente dal sito del produttore della scheda grafica. Nel caso in cui la scheda stessa sia molto vecchia, potrai semplicemente intercettare i driver necessari navigando su internet grazie ai motori di ricerca. Bene, nella prossima lezione conoscerai la sorella di questa scheda, ossia la scheda audio. A questo punto, come al solito, non mi resta che ringraziarti per l'ascolto. Un saluto, ciao a presto da Carlo! A presto, ciao a presto! A presto! Grazie a tutti.